Non ho chiesto la zona rossa, ma a qualcuno evidentemente fa comodo così. Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha chiesto la registrazione del suo intervento durante la conferenza Stato-Regioni. Apprendo dalla stampa e dai telegiornali, si legge in un post pubblicato su Facebook che questa mattina avrei chiesto la zona rossa, ma le mie affermazioni sono state di altro tipo. Ho evidenziato la disponibilità a discutere di una stretta per evitare assembramenti. Ho affermato che se si dovesse ipotizzare una ulteriore chiusura, non si può pensare che a pagarla siano ristoranti, bar, esercizi commerciali, piscine, palestre. Ho parlato dell'inopportunità di lasciare sole le persone anziane e della necessità di messaggi univoci. Ora, proseguita Acquaroli, mi aspetto che tutti coloro che senza interpellarmi mi hanno attribuito la richiesta della zona rossa riportino il senso di quanto veramente detto in quel contesto, perché l'informazione, soprattutto quella pubblica pagata con i soldi dei cittadini, non deve mai diventare disinformazione. A spiegarci cosa è emerso durante il confronto online è il vicepresidente Mirko Carloni. La nostra posizione è stata di contrarietà all'atteggiamento, diciamo così, a un divago del governo, perché la settimana scorsa il ministro Azzolina diceva che bisogna riaprire le scuole subito, con tutto quello che consegue, altri ministri avevano annunciato l'apertura tra i comuni il giorno di Natale per potersi muovere da un comune all'altro, e oggi invece veniamo a sapere che probabilmente già dalle prossime ore ci potrebbe essere un'ulteriore restrizione. Ecco, noi su questa cosa non siamo d'accordo, perché questo clima di incertezza genera dei danni, oltre anche psicologici alla popolazione, perché ogni tre minuti cambiano le regole, ma soprattutto le imprese che in qualche modo, pur rispettando i protocolli, contano su questo periodo pre-festivo per poter lavorare, cambiare continuamente, ogni settimana le regole rende davvero difficile il lavoro, perché bisogna organizzarlo, perché il business è fatto di pianificazione, non può essere improvvisazione. È importante tutelare la salute ed evitare assembramenti, prosegue Carloni, ma il governo su questo ha avuto posizioni diverse, ha incentivato il consumo nei negozi attraverso il cashback, ha chiuso i centri commerciali e favorito le aggregazioni nei centri storici. E quindi il match di queste due cose ha fatto sì che nello scorso weekend ci fosse tanta gente in giro, però era ampiamente imprevedibile questo fatto. Noi siamo contro gli assembramenti, dobbiamo evitare che la gente in qualche modo si incontri in numero eccessivo e non diventi liberi tutti in questo momento, però non è meno possibile far pagare alle imprese le scelte sbagliate. E soprattutto questo regime di incertezza, di cambio continuo delle regole, secondo noi danneggia la nostra economia. Peraltro abbiamo chiesto questa mattina, in conferenza Stato-Regioni, che insieme al provvedimento che il governo vuole adottare, e lo sapremo nelle prossime ore, di chiusura e di restrizioni, ci siano anche chiari i ristori, perché non è possibile che si chiudano delle attività economiche e contemporaneamente non ci sia dichiarato qual è il ristoro, il risarcimento di quella chiusura.